Bentornati su Radio Design con il podcast Next che racconta i nostri ex studenti che oggi vivono già una propria realtà. Allora, siamo oggi in compagnia di Enrico Giusto? Enrico Giuseppe De Candia, giusto il nome? Perfetto. Ok, allora tu sei un ex studente dell'istituto, uno studente di Industrial Design, giusto? Quindi oggi qual è la tua professione? Raccontaci un po' di te. Oggi dopo dieci anni sono sia disegnatore tecnico che responsabile commerciale all'interno di un'azienda che si occupa di arredamenti per pasticcerie, giocherie e bar, che menziono, che è l'Ital Project, perché ne vado molto fiero. Beh, è una grandissima realtà dell'Umbria. E quindi ecco, sono dieci anni che sono uscito da questo istituto e poi con il mio book di progetti appunto realizzato qui all'istituto, ho girato appunto il porta a porta per chiedere lavoro e ho trovato famiglia all'Ital Project, sì. Sì, infatti raccontiamo un attimo, in cosa consiste? Come lo spiegaresti tu l'industrial designer? Cosa fa? Allora, l'industrial designer. Allora, io diciamo che penso al design come se fosse la rappresentazione tangibile di quella che è la sensibilità di un grado di creatività. Quindi a un certo grado di creatività corrisponde un prodotto tangibile che quello è il design. Poi ecco, è soggettivo, però per quanto riguarda quello che penso, penso che sia una reazione chimica, ecco, la chiamo così. Poi io da, diciamo da profano, perché io insegno web marketing in questo istituto, posso dire che l'industrial design è colui che realizza concretamente poi un oggetto. Sì, sì. Poi ci mette del suo, della creatività, il design, tutto quello che ha dentro. Diciamo il complemento d'arredo, ecco, quello che... Certo. Parlando concretamente. Allora, tu ti sei laureato, hai detto, qui dieci anni fa e da tre anni però hai, diciamo, maturato un'altra sensibilità verso, che già avevi, immagino, verso l'arte. Infatti se voi guardate qui dietro di me c'è un'opera che ha realizzato Enrico Giuseppe, aggiungiamo il nome che so, il babbo, servono. Altrimenti il babbo sarà. Babbo, Giuseppe. Non ti chiamerò neanche Enrico, ti chiamerò Giuseppe. Giuseppe, cosa abbiamo qui dietro? Allora, dietro abbiamo, diciamo, un piccolo quadro, chiamiamolo piccolo quadro. Piccolo, non direi, ma è gigantesco. Si chiama l'incontro. Allora, diciamo, questa tecnica è la tecnica dell'intreccio, perlomeno l'ho battezzata in questo modo, e consiste nel intrecciare più forme possibili creando altre forme, diciamo, da quello che, scusate il gioco di parole, da quello che si forma da queste linee, questi colori. Quindi ecco appunto qua si parte da quello che è la forma di questa donna che si getta nel mare. Sì. Poi intorno a questa forma ho creato altre creature, marina in questo caso. Quindi ecco, non inizio sapendo bene come verrà il mio quadro, ma è tutto guidato da quello che è la mano in quel momento. Ah, quindi non hai un'idea? Parto da un'idea, da un concetto, però ecco non so poi... Dove arriverò? Dove arriverò, questo sì. E questo è figo. A volte ho fatto anch'io dei... Soprattutto nei video. È molto semplice, ti togli da qualsiasi responsabilità, quindi... Beh, comunque è arte, quindi... Chiamiamola così. Eh, è così. Beh, quanto ci hai messo per realizzarlo? Allora, lavorando le classiche otto ore al giorno, quindi concentrandolo in quelle che erano le ore notturne, complessivamente diciamo siamo arrivati a nove mesi, quindi un vero e proprio... Parto. Però ecco, ho iniziato due anni fa. Oddio. Ho iniziato due anni fa, ecco. Quindi questo... Un pochino ci si mette, sì. Quindi nell'insieme ci hai messo due anni per farlo. Sì, sì. E poi in monte ore due mesi. Monte ore, no, nove mesi. Nove mesi. Il famoso parto. Il famoso parto. Che... Quindi hai detto, che tecnica usi? Cioè, parti... Cioè, come lo fai concretamente? Allora, concretamente... Per gli strumenti? Per i noi profani, noi profani. Parto con la classica matita. Sì. Quando... Quando la forma matita mi piace, vado giù con il tratto pen, quindi definisco quelli che sono i contorni. Ok. Dopodiché si passa al pastello. Sì. Il pastello viene sfumato e poi si passa alla tempera. Per tempera, ovviamente, in questo caso abbiamo soltanto dei puntini realizzati con del pennello. Non ci sono delle classiche pennellate. Quindi ecco, ci sono quattro fasi che portano via ogni figura più o meno dalle tre alle quattro ore. Madonna mia. Però... Io già, dopo cinque minuti, penso che... Avrei abbandonato. Sono sincero. Sono sincero. Mi rilassa molto. Quindi ecco, non mi pesa. È terapeutico, diciamoci. Molto terapeutico. Per me sì. Molto terapeutico. Quindi, praticamente, tu di giorno lavori, la notte... Sì. Succede questo. Quindi tu non dormi mai, sostanzialmente. Dormo purtroppo molto poco. Quello... Sì. Ecco, questo istituto insegna anche a fare questo. Cioè, non dormire e lavorare H24. Aiuta. Però aiuta. Però non hai le occhiaie. Questa cosa non me la spiego. No. No. Com'è possibile? Non ho utilizzato, almeno un contorno occhi. Nel contratto a matita sugli occhi. Qui c'è anche un'altra opera che adesso non potete vedere, ma vi consigliamo di passare presso l'istituto. Siamo in Via Alessi, in Piano Centro, a Perugia. Potrete vedere anche l'altra opera. Sì. Sì. E quante opere hai realizzato? Queste sono le uniche due? Ah no, ce ne sono in tutto quattro. Ok. Perché avendo iniziato tre anni fa, appunto, mettendoci... Non facendo le cose facili. ...e qualche mesetto, ce ne sono quattro. Per cui ne ho portato le due, che occupano in circa due metri quadri di istituto. Ecco. Ne ho portato le due più grandi, ecco. Quelle con cui sono più affezionato. Bene. Quindi tu, c'è, pretendente, non sei mai partito da una cosa semplice, sei partito subito a bomba, facendo... Allora, guarda, sarò chiarissimo, è molto, diciamo, chiaro. Ho iniziato, non so se è presente, quando si ha il telefono. Sì. E inconsciamente iniziamo con quegli rigori, no? A disegnare con una penna un foglio. Ecco. Da lì io ho detto, caspita, queste linee, questi rigori potrebbero intrecciarsi tra loro. Quindi un giorno mi sono messo lì su un foglio a quattro. E sei partito. Sono partito. Poi da una quattro è diventato questo. Chissà se più là, ecco, magari... Beh, devo dire che è una grandissima cosa. Poi io sono anche un po' profano, però almeno per me è bellissimo. Poi vi invito a venire. Sì. Allora, per concludere, dove possiamo trovare queste cose online? Perché io faccio web marketing e ci tengo sempre. Ho una piccolissima pagina di Instagram. Il mio nome è Lunart underscore designer. Ok. E lì ci sono passo per passo quelle che sono le mie opere. Quindi ecco, ogni figura è stata fotografata. E poi c'è un collage su un video dove, diciamo, raggruppa tutte queste creature. Le chiamo così. Quindi Instagram. Ma l'ultima domanda. Abbiamo un minuto. L'ispirazione da cosa parte? Dalla fantasia o da cose reali che vedi nel mondo reale? Da, diciamo, più da concetti. Nel senso, in questo caso mi andava di rappresentare quello che era la natura, la formazione della natura. Quindi ho cercato di immedesimare l'uomo che è lassù, su quell'asciugamano, come terra. E la donna come mare. Quindi c'è questa appunto questo incontro. Sì. E da questo incontro, diciamo, viene fuori la natura. Quindi come concetto è questo. Semplice, però ecco, diretto. Potente. Sì. Ok. Grazie mille Giuseppe. Grazie a te. Sto a chiamare Enrico, ma ho sbagliato. Grazie mille Enrico Giuseppe De Candia. Ricordiamo la mail lunart underscore designer chiocciolaiow.com. Quindi se volete anche contattarlo magari può essere una cosa interessante. Vi invitiamo a venire qui a vedere le opere. Ti aspetto. Grazie mille ancora Giuseppe. Grazie a te. Enrico. Molto bello. Grazie. Scriviamo le dirette. Avrei continuato all'infinito, mi ho messo il cavallo. Come? Avrei continuato.